Il vero flagello del matrimonio moderno non sono le spese, lo stress, la lista degli invitati, sono i genitori. Scusate, scusate, non scherziamo, le cameglie non vanno lì, ma dall'altro lato. Vedete là dove c'è quel traliccio orrendo? A noi è detto di metterle qui all'ingresso, ci abbiamo messo mezz'ora per portarle qui. Ecco, un'altra mezz'ora e te le portate là, servono per coprire il traliccio, non voglio tralicci al mio matrimonio.